E' arrivato qualcuno al casale? Forse sono quello di bell'estate. Ma che fai, io? Com'è che ti chiami? Giulio. Facciamo un gioco. Una. Due. Vieni. Allora Lia sei qui da sola? Certo che starsene qua da soli non è il massimo. E' tutto uguale. Gli alberi, i campi, gli alberi, i campi. Non c'è vero? Io ti voglio aiutare. Eh. Sono aperto la finestra. Esch! No fai se mi a mi. codes. Certo che ci vediamo l'inizio. Ciao! Ghi. Grazie.